In un comune piccolo di 6.000 abitanti, c'è più di 30 associazioni attive sul territorio, sono una grandissima risorsa per il Paese, perché grazie a queste associazioni e alla loro presenza attiva si crea una forte coesione sociale da tutti i cittadini. E l'altro aspetto importante che noi vogliamo sviluppare in questo quinquennio è far sì che la scuola sia sempre più radicata, viva e presente sul territorio e sia anche un esempio, questo può essere un parparadossale, ma è così che dai bambini più piccoli, dai bambini dai ragazzi, vengano esempi virtuosi di educazione civica, di attenzione all'ambiente, di presenza attiva e anche feconda sul territorio.